E allora buongiorno, intanto vi ringrazio perché in questi giorni state veramente devastando nelle ultime settimane di iscritti, di visual, di like, quindi vi ringrazio per l'affetto, ma non solo, rilancio e martedì sera alle ore 21 faremo una live in solitaria. Ma per mercoledì vi sto cuocendo, anzi ho cotto una live veramente devastante, mercoledì sera ore 21 io, il Bruni con Dissing sul cagare sul Milan, il Ducan e Razzurro, il Valeriani e Otis, quindi voglio dire mercoledì sera veramente fuoco e fiamme live qui sul canile. Voi condividete questo video con tutti, devastate di like, guardatevi anche quello precedente su Roma, Napoli e Lazio, fatemi sapere le vostre impressioni, poi ne parleremo dal vivo anche martedì sera e andiamo sui temi di giornata. Allora, parliamo di questo QDUS al Brighton per 40 milioni, cos'è il Brighton? È tecnologia aliena, tecnologia importante, le rivelazioni sugli UFO le sta facendo il Brighton con il calciomercato delle ultime, ma cos'è QDUS? Se QDUS va al Brighton a fine stagione vale 276 milioni di euro, secondo me, non un milione in meno, non un milione in meno. Detto questo, allora, avrete visto, vi sarete svegliati con la dichiarazione prorompente di interismo, perché lo guardi in faccia e quello è l'Inter, dichiarazione di interismo di Bento Mateusz Krebski, ok? Che dice, ho ricevuto un'offerta dall'Inter, ho il sogno di andare all'Inter, spero che il presidente della Paranaense assecondi queste mie volontà. Quindi, offerta confermata, come vi dicevo, come parlavamo l'altro giorno, l'Inter è sul portiere, lo sta cercando, let Bento Cook, perché io vi ripeto che se l'Inter prende questo portiere qui, fa un colpaccio. Tant'è che, tutto sommato, bastava prendere lui, se lo prendi, il luogo di Sommer. Poi, se prendi anche Sommer, hai una batteria sicuramente molto interessante nel rapporto tra presente e futuro, Bento però è uno che deve giocare. A quel punto lì, se li prendi tutti e due, puoi anche fare un discorso di alternanza tra partite di Coppa e partite di campionato, che a questo punto però riterrei anche luxuoso. Perché, ripeto, se volevi, se vuoi andare su Bento, bastava anche solo lui, perché è veramente un giocatore di grande qualità. Poi ci sono anche conferme su questa vicenda dello scambio tra Vlaovic e Lukaku, c'è stata un'accelerata, vedremo nei prossimi giorni quel che succederà, ma qui sarò estremamente franco. Perché se Giuntoli, dopo averci portato a noi della Fiorentina, Artur, colleziona anche questa gioconda, allora rispetto e possiamo anche chiudere un occhio sul discorso che sì. Però, da parte mia, se questa gioconda non si chiude qui e ce l'hai fatta annusare e poi non va a conclusione, la prossima stagione si diventa Allegriani. La prossima stagione, se non va in porto l'arrivo di Lukaku alla Juve, Allegrismo. Lo riempiamo di scuse, lo abbottiamo di scuse. A quel punto lì, se la Juve farà male, sarà colpa del calcio mercato. È giusto così? È giusto o non è giusto? Credo sia giusto. Però, a parte gli scherzi, vedremo anche come finirà questa vicenda con Lukaku. Passiamo alla Fiorentina. Passiamo alla Fiorentina perché ci sono diverse cose da dire. Intanto ci sono state queste due amichevoli con il Newcastle e il Nizza quest'oggi. Io farei risaltare due cose, principalmente, che riguardano due giocatori. Il primo è Artur. Io ieri ho visto Fiorentina Newcastle molto più attentamente di Fiorentina Nizza di quest'oggi. E non so voi, ma visto che mi pare un'impressione anche abbastanza condivisa, io di Artur sono già innamorato. Non che avessi dubbi, però vedi veramente un giocatore sì, un pizzarro, ma potenzialmente questo lo vedi, come tiene il pallone lui, come lo nasconde, come lo gestisce. Il lancio che ha fatto per Nico Gonzalez, che l'ha messo davanti al portiere con un lancio, girandosi, girando il corpo. Qui siamo qualità superiore. Questa è qualità. Questo è un giocatore veramente concordo con gli amici di Fiorentina.it. Questo è un giocatore che ha in mano veramente i destini della squadra, potenzialmente. Quindi questa è la prima cosa, Artur. La seconda, Jovic, Cabral. Cabral ieri con il Newcastle, per usare un eufemismo ad essere buoni, ha fatto fatica, mentre Jovic ha timbrato. Jovic, io ripeto, sulla questione attaccante, e qui ci leghiamo anche al calciomercato, con i nomi di Nzola e Beltran, io avrei fatto una cosa molto semplice, ripeto. Avrei ceduto Cabral, avrei confermato Jovic e avrei preso Scamacca. Questa sarebbe la line dell'attacco che io avrei compiuto, avessi avuto io, diciamo, la gestionalità del reparto offensivo. E questo discorso di andare su Nzola e Beltran addirittura assieme a me non è che entusiasma. Mi devo essere onesto, un po' perché Nzola non mi fa impazzire. Io, per esempio, non solo quella, ma ho ancora in mente la partita che ha fatto con lo Spezia, lo spareggio Salvezza. Ma anche tanti... Oggi c'era un utente su Twitter che giustamente mi ha scritto ma che senso ha andare su questi attaccanti qua sempre da 10-15 milioni, Piontech, Cabral, adesso gli Nzola. Lì devi prendere il reparto di petto e portarti a casa una soluzione definitiva. È un ruolo fondamentale, è un ruolo importante, dove l'investimento deve essere il più corposo possibile. Deve essere il più corposo possibile. Adesso Scamacca è andato all'Atalanta e mi chiedete di fare il treno. Io ve li avevo anche fatti, delle puntatine. Ve ne dico uno tanto per gradire. C'è questo Dovbic del Dnipro 1 che sta andando al Girona per sostituire Castellanos e non è una squadra di pirla al Girona, perché a parte che è nel circuito Manchester City, ma è gente che il calcio lo sa fare e che sta dando una grande continuità anche in liga alla squadra, Dovbic sarebbe stato per esempio un colpo molto interessante, molto interessante. Nzolà non è che scaldi molto, non mi sembra un nome risolutivo al 100% per l'esigenza della Fiorentina e anche Beltran. Per cosa lo prendi Beltran al posto di Jovic? Allora intanto fare un cambio completo di entrambe le punte, a me sono concesso che siano questi i piani, farlo a metà agosto con giocatori che devono inserirsi, comunque con un allenatore che non è che mette la gente in campo e dice giocate come volete, ci sono dei compiti, c'è un modo di interpretare, cambiare entrambe le punte così, non lo so. Lì c'era da fare al contempo, secondo me, una scelta meno rivoluzionaria, cioè bastava cederne uno e sostituirlo con una certezza. E anche lì al primo posto, più che i nomi, più che le suggestioni, invito i tifosi a mettere al primo posto le esigenze tattiche, cioè noi dovremmo prendere una prima punta fisicata, la Scamacca, la Giroux, il più possibilmente alta, anche perché si stanno facendo, abbiamo anche preso già Infantino, che non è che sia un gigante, non abbiamo una squadra di giganti, eccettuato adesso Ierimina, e anche Beltran non è un gigante, ha le caratteristiche per fare il nostro gioco, ha senso spendere 20 milioni su di lui, ma piuttosto con le sue caratteristiche mi tengo Jovic, che è un giocatore che la palla la sa tenere, che il gol lo sa fare, io mi fido di Jovic, ha qualità Jovic, mi tengo Jovic e mi prendevo una prima punta strutturata con le caratteristiche lì che non sia Nzola, un giocatore forte, quindi a me né Beltran né Nzola scaldano onestamente, né l'uno né l'altro. Mentre su Christensen, su Christensen allora, intanto se è vero che il portiere arriva per 6 milioni, mi viene da pensare a me che questo qui arrivi per fare il titolare, perché dubito che la Fiorentina spenda 6 milioni per una riserva, lì bisogna però vedere come intendi il rapporto con Terracciano, allora Christensen viene per giocare sempre, oppure c'è un'alternanza con Terracciano, in quel caso lì anche lì io avrei fatto una scelta precisa, avrei preso Carnesecchi come primo portiere e tenuto Terracciano come secondo. Però su Christensen non voglio demolire subito, sento molti che sono delusi, così quella, ma intanto quantomeno se questo può avere un pregio è che ha aperto un po' la reale, no? Almeno non siamo andati a prendere il classico giocatore di metà classifica, il classico portiere con tutto il rispetto, all'Audero, alla Montipò, siamo andati un po' oltre confine, questo qui comunque ha un'età ancora relativamente giovane, valutiamolo insomma, su Christensen si può anche aspettare, si può anche valutare, può anche essere un colpo interessante, se c'è qualcuno che l'ha visto, se c'è un reparto di mercato, piuttosto che di scouting, che crede fortemente in questo Christensen, che io non è che conosca benissimo, valutiamolo, valutiamolo, non è che lo vado a demolire a priori Christensen, vediamo, o almeno se andati oltre confine, età relativamente giovane, non spendi questa cifra inenarrabile, valutiamolo, vediamo. sull'attacco invece sono un po' più, come si può dire, un po' meno possibilista, perché avrei fatto le cose un po' diversamente, questa doppia soluzione qua, non è che mi scaldi molto il cuore, questa doppia soluzione qua, Beltrano-Nzola, non so voi che cosa ne pensate, non so voi come vedete questa vicenda qui, poi chiudo con la suggestione di Zaniolo, Zaniolo magari si può fare ugualmente, cedendo Kwame e Duncan, si può arrivare ugualmente a Niccolo Zaniolo, che come vi ho detto nei video precedenti, può essere un'occasione importante, tra centrocampo, ma soprattutto tre quarti e esterni, specie se continui a voler fare il 4-2-3-1, ti aggiunge un po' di tono, un po' di peso, ad un reparto che probabilmente adesso avrebbe bisogno anche di questo. Ditemi voi cosa ne pensate, un caro saluto. Grazie. Grazie.